microtech ultratech il terzo in dimensioni partendo dal più piccolo e questo modello ultratech il primo è l'utx 75 poi abbiamo l'utx 85 poi abbiamo l'ultratech che è chiuso a misura 115 mm 125 se consideriamo anche il frangi cristalli il modello è come al solito manicatura in alluminio otf qui abbiamo il marchio col disegno e il numero di serie costruzione del 2014 l'apertura è sempre a scatto molto molto dura la lama in questo caso è una lama bayonet quindi a un filo e mezzo da questo lato abbiamo il nome del modello è l'azienda e da questo lato invece è sterile ultratech bayonet l'acciaio utilizzato adesso è l'elmax è già da qualche anno che utilizzano questo tipo di acciaio le dimensioni totali così diventano 210 mm ovvero 8 pollici e qualcosa la chiusura è sempre tramite la leva molto dura molto molto dura non c'è il problema che si possa aprire in tasca in più abbiamo una clip posteriore che permette l'utilizzo dalla tasca la fattura è ottima come tutti gli altri modelli dell'azienda e questo diciamo che è un modello diciamo di di mezzo perché poi saremo con i modelli più grossi questo è un modello particolare microtech ultratech backo saremo con i modelli più fortale